17esima edizione vuol dire che il binomio Arezzo fumetto e disco funziona? è una mostra che ha sempre riscosso un ottimo successo sia di pubblico e anche di apprezzamento da parte degli espositori infatti molto spesso c'è chi rimane escluso dalle prenotazioni dei banchi perché non c'è posto è presente fin dalla prima edizione qui ad Arezzo, com'è cambiata la mostra d'esposizione? non ha avuto grandi cambiamenti perché qua nella zona aretina ci sono molti collezionisti del vecchio stampo e si continua a collezionare in maniera molto tradizionale qui diciamo non ha ancora attecchito la nuova moda del cosplay, il japan c'è ma non è preponderante e c'è un collezionismo doc, un old fashion proprio il visitatore tipo qual è? beh si va praticamente dai 25-30 anni in su fino anche ai 60-70 anni e perché c'è anche una motivazione, questa secondo la mia opinione vale a dire il collezionismo di un certo tipo, specialmente l'antiquariato, anche il basso antiquariato e richiede delle cifre certe volte importanti quindi il pubblico è un pubblico che o ha cominciato a lavorare o già lavora oppure a famiglia, sistemato i figli e allora le sue risorse le dedica a questa passione, a questo suo hobby grazie 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 grazie